La gente deve anche pensare che non bisogna intasare gli ospedali se continuiamo con questo ritmo. Gli altri ammalati, quelli oncologici come me, cosa fanno? Dove vanno? Marilena Rosada, che i trevigiani hanno imparato a conoscere perché da anni si batte contro la realizzazione del quarto lotto della tangenziale, parla della sua esperienza da malata oncologica in tempo di Covid, per chiedere a tutti di sforzarsi perché la pressione sugli ospedali si allenti, così da permettere di curarsi al meglio anche a chi sta combattendo contro altre malattie. Purtroppo io il mese di marzo ho scoperto, proprio il nuovo marzo in piena pandemia, ho scoperto di avere un linfoma non-hoccin. Sono stata tanto male, sono stata ricoverata, ho fatto chemio e ci sono stati dei problemi perché non sono neanche potuta accedere alla sala operatoria per un prelievo della massa perché la sala operatoria è stata chiusa per Covid. Allora io quando vedo tutte le interviste di questi giorni e la manifestazione dell'altra sera, io capisco tutto e vorrei avere una bacchetta magica per risolvere i problemi a tutti quanti perché capisco che tutti devono lavorare. Forse la gente non ha capito che lo fanno perché non ci deve essere socialità, siccome molta gente non ha capito e continuavano a fare assemblamenti, siamo arrivati al punto che siamo. Chi prende questa emergenza alla leggera, dice Marilena, si metta nei panni dei malati. Vado tutti i giorni in ospedale, però purtroppo ci vai perché lo devi fare e la gente deve tenersi sulla mascherina. Ha inviato un messaggio vocale al sindaco Conte, la Rosada, lo ha fatto dopo aver visto le immagini della protesta di lunedì sera in piazza dei signori che ha radunato 3.000 persone. Un assembramento pericoloso, dice ribadendo quanto già sottolineato dal prefetto Laganà. Pensate anche ai malati come noi che altrimenti non possono più curarsi. Già è molto difficile figurarsi con questa situazione Covid. Se ci sono tante persone malate di Covid, le altre persone non possono più essere curate. E poi c'è il rischio sempre maggiore che queste, avendo queste patologie, si prendano il virus e sono sicuri che non ce la faranno.